Ciao a tutti ragazzi sono Luke e oggi siamo ancora nella Direwolf 20 e ho fatto un po' di cosa allora il nostro bellissimo piccone in diamante e il nostro bellissimo jetpack con i nostri stivali di townium che sarebbe un minerale della towncraft minerale della towncraft con i quali mi sono fatto questi bellissimi cosi lol 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 intanto carichiamo il nostro tizio il nostro coso qua devo mettere un blocco e si qua ho fatto una nuova stanzietta apposta per i macchinari dell'industria del crafter o anche quelli della cosa dell'altra non mi ricordo non della gretec un'altra che non mi ricordo e poi qua sotto ho messo a posto tutte cose tutti i miei bellissimi barrel queste sono le cose della towncraft e poi vedete questo qua è quello che mi è rimasto ecco oggi dovevamo andarci a fare lo stil volevo fare lo stil volevo farmi dello stil per poter farlo stile prima serve il coco ecco ecco ma porco percuno ecco 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 l'unico difficile giocare con spolato no io dico ma tu sei stupido o cosa allora ah si è poi fatto il tetto in vetro che dopo vi faccio vedere adesso no ok quindi qua devo ancora mettere tutto intorno il che due alle oh e devo mettere ancora a posto tutto mi sto incazzando mi sto incazzando il coso qua era da fare così una roba del genere no non ne abbiamo abbastanza quindi per oggi questo niente lo stil ce la faremo un'altra volta così ho anche il tempo di sistemare bene la stanzetta quindi oggi andiamo nel nether perchè perchè fuori dal video ho fatto abbastanza ossidiana ho preso un abbastanza ossidiana e quindi ora andiamo nel nether un secchio non ce l'ho tipo tipo un secchio tipo un secchio tipo un secchio tipo no non ce l'ho secchio tipo allora andiamo offenti via to u you need to go drop dai mentre il Ora l'amiera tipo a destia ecco infatti mettiamo easy easy e non si mettono con mio dio non ho no ok 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 no 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 così non va dio santo togliti togliti un attimo cazzo di lagga tigman zombie pigman la soul sand ci servirà prima che perdo il brutale ok buongiorno buongiorno zombie via si tanto è il presidente rompi fuori fuori off camera perché ci servirà per fare la blast for nace per farlo steal. Vediamo se riesco ad arrivare in cima. Guarda tipo mi arriverà una collata di lava in faccia e io muoio. Allora. Dobbiamo andare là in cima. Sperando che non mi metti. Glowstone! Glowstone! E io da buono stupido non mi sono portato il materiale da costruzione. E come ci arrivo io la pennella? Beh. Scusate zonghi piccoli. Scusate zonghi piccoli. Io mamma la voglio questa roba qua. E da buon cretino non mi sono neanche portato del cibo. Quindi munirò di fame. E da buon cretino non mi sono portato del materiale da costruzione. Ma che cazzo dico? che palle neder quanto la gale. Lola 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 lola. Oh quanta bella. Glowstone. E ci servì. Va. 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 Orc. Vinci. Perdinci. Perdinci. Bacca. Bu. Inis principle. Persona del mezzo. Beh. Non abbiamo ancora incontrato Ghast. Non so se è una cosa positiva. Non avrei ancora incontrato Ghast. Vuol dire che fra un po' ci stupreranno lentamente e con gioia Quindi Qui i zondipi come non ce ne sono Possiamo anche fotterli Questa cosa Che cos'è? Cinnabar Beh ma c'è anche nel mondo normale la Cinnabar Cinnabar Dust Cinnabar Dust Se è baguetta la cosa Non ho la vostra roba tranquilli No 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 Oh ci saria tanta stone Cosa c'è da rugione? Ok, direi che per questo video è tutto Io intanto guardo ancora un po' in giro Dove sei? Quindi direi perché per questo video è tutto E al prossimo video, ciao ciao Voglio like